E' così difficile riunire e fare questa unione dei comuni, si vede anche da questi incontri c'è tanto scetticismo, forse perché tutta la Calabria in generale non è mai stata abituata a cooperare? Purtroppo questo è chiaramente un dato incontrovertibile, non vorrei fare discussione filosofica sull'approccio culturale che abbiamo nei calabresi, voglio solo dire che chiaramente noi abbiamo iniziato questa azione di sistema che ha voluto la giunta regionale come Fondazione Field e il fatto che dopo due mesi abbiamo comunque convinto 250 sindaci di 327 che hanno l'obbligo per legge e pagare i servizi, pena la perdita del fondo di perequazione che dirò per un comune perdere piccolo di 50-60 mila euro significa non pagare la luce, questo è lo stato dell'arte, quindi noi stiamo facendo secondo noi un'apparazione di grande rivoluzione in questo senso, all'inizio i sindaci sono molto scettici, però devo dire che man mano che ci si incontra, ci si ragiona insieme capiscono pure loro che sono chiaramente come dirà un bivio e questo percorso va fatto insieme, va fatto in comune perché significa riorganizzare l'autonomia locale in Calabria da qui a qualche anno, è un percorso come dicevo prima incontrovertibile sia per limiti finanziari e anche perché chiaramente il mondo sta cambiando e anche la Calabria penso sia un momento che cambia anche in questo senso. Abbiamo sentito un po' la perplessità di quei comuni che magari sono più grandi e sono, diciamo così, mi passi il termine, demograficamente autonomi. Autonomia, guardi, io penso che rispetto alle dimensioni di un comune alzopo di 50 mila abitanti anche io qua sono scettico, mi spiego meglio. Come ha detto Pocanzi, qua si tratta di mettere insieme, raggiungere una massa critica in termini di dimensioni territoriali di abitanti per pesare di più perché se è vero come è vero che comunque le province saranno abolite con un percorso istituzionale dall'altra parte gli entri sovracomunali, in questo caso le unioni, avranno un ruolo importantissimo sia nell'interfacciarsi con gli entri subregionali, con la regione, con i vari livelli anche ministeriali futuri e in questo senso possono, come dire, contribuire allo sviluppo di quell'area. Lo Stato parla ormai da tempo anche documenti ANCI, UBI e Lega dell'autonomia parlano comunque di, come dire, che costituiscono di aree vaste, quindi con omogeneità territoriale, con continuità dove gli elementi di continuità e di unità potrebbero essere presentati dalle infrastrutture, dalle tradizioni, dalla cultura di quell'area. Lo stare insieme rafforza quell'area e sicuramente è un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stata fino adesso la visione del singolo comune. Ecco, possiamo sintetizzare così? L'unione dei comuni fa la forza dei servizi e la forza anche economica. Assolutamente, lei ha sintetizzato in maniera perfetta quello che noi stiamo tentando di far comprendere i sindaci. Grazie.